Orashti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Spesso abbiamo visto come Nintendo, nonostante si sforzi in tutti i modi di trasmettere di sé un'immagine estremamente family friendly, si è incappata in degli scivoloni clamorosi. Tra insulti, gesti strani e allusioni sessuali più o meno esplicite, la grande N è spesso finita al centro di controversie dal forte impatto mediatico. Eppure oggi parleremo di un fattaccio che, nonostante riguardi una delle sue serie di più grande successo, Animal Crossing, stranamente non ha suscitato l'ondata di indignazione che ci si aspetterebbe. Mi raccomando, vi aspetto a fine video perché ho un annuncio molto importante da fare che riguarda il futuro del canale. Iniziamo! Di tutte le serie, Animal Crossing è forse quella dove meno ci si aspetterebbe di trovare contenuto etichettabile come controverso, se non addirittura esplicitamente razzista. La serie è famosa per incentivare l'interazione fra giocatori e lo scambio di user-generated content, ovvero creazioni ad opera degli utenti. Nintendo ha da sempre provato ad arginare preventivamente la proliferazione di contenuti volgari o offensivi all'interno dei suoi titoli, spesso limitando drasticamente le interazioni possibili fra i giocatori. Nel 2008 però le cose andarono in modo molto diverso, ma procediamo con ordine. In quell'anno fu pubblicato per Wii l'episodio di Animal Crossing Let's Go to the City, conosciuto in America come City Folk. Il titolo non solo sfruttava le funzionalità online della Nintendo Wi-Fi Connection che permettevano agli utenti di comunicare tramite WeSpeak e una chat testuale, ma presentava anche la possibilità di scambiare dati con il Nintendo DS. Infatti era possibile far interagire Let's Go to the City con Animal Crossing Wild World, l'episodio uscito sulla console portatile nel 2005. Trasferendo i salvataggi da Wild World si potevano importare i propri personaggi su Wii, garantendo così una sorta di continuità tra i due titoli. Nintendo of America decise di promuovere questa funzionalità partendo dalla stampa generalista, inviando 14 cartucce di Wild World ad altrettante redazioni. Le schedine presentavano delle partite già avviate, con dei salvataggi, dove era stato sbloccato sostanzialmente tutto quello che il gioco aveva ad offrire, con l'intenzione di incentivare i redattori a provare da subito la feature del trasferimento dei dati. A quanto pare però chi si era occupato di creare i salvataggi si era preso qualche libertà di troppo. All'interno della redazione di MTV il giornalista Stephen Totilo fu il primo a riportare un avvenimento a dir poco inaspettato. La partita salvata all'interno della copia di Wild World, oltre a presentare tanti oggetti sbloccati e molte stelline messe da parte, aveva anche dei saluti degli abitanti personalizzati. Fu così che con grande stupore del redattore, l'NPC Bea, in inglese Barbara, salutava il giocatore con una frase leggermente fuori luogo, sganciando come se nulla fosse la N-Word. La parola con la N, per chi non lo sapesse, è un insulto estremamente offensivo che non deve essere utilizzato mai in alcun contesto. Come abbiamo già visto in apertura, la serie di Animal Crossing punta molto sulla personalizzazione dell'esperienza, tramite la possibilità di insegnare dei nuovi saluti agli abitanti, sostituendo le loro formule base. Nintendo, per prevenire l'utilizzo di volgarità, ha da sempre implementato dei sistemi di sicurezza in grado di bloccare i termini proibiti, ma purtroppo questi sono facilmente aggirabili tramite l'utilizzo di caratteri speciali. Non è certo la prima volta che ci troviamo di fronte a un escamotage del genere, ma ciò che rende incredibile questa storia è che molto probabilmente fu proprio un impiegato Nintendo incaricato di creare i salvataggi per i giornalisti a inserire all'interno del gioco gli insulti razziali, rendendo a tutti gli effetti questa versione di Wild World ufficiale al 100%. Come se non bastasse, anche Brian Crescente, di Kotaku, dopo essere stato contattato da Totilo, riportò di aver trovato frasi del genere presenti all'interno della sua copia, il che costrinse Nintendo a scusarsi tramite un comunicato stampa che però lascia aperti ancora molti dubbi. L'ufficio stampa, infatti, confermava la presenza dell'insulto razziale e anche di aver spedito le 14 copie del gioco senza averne controllato minuziosamente il contenuto, prendendosi la colpa dell'accaduto pur discolpandosi in modo un po' goffo. Infatti, secondo l'azienda di Kyoto, la frase incriminata si sarebbe riprodotta viralmente all'interno delle cartucce tramite una forma di comunicazione wireless che permetteva, in maniera autonoma, la diffusione di contenuto generato dagli utenti. Una funzione totalmente assente dalla versione finale del gioco. Inutile sottolineare come queste scuse spiegavano sì la propagazione della N-World, ma non come fosse stata possibile la sua presenza in primo luogo e chi fosse stato il responsabile del suo inserimento all'interno del primo salvataggio. Comunque, Nintendo confermò che si trattava di un problema esclusivo delle copie inviate alla stampa e che queste sarebbero state ritirate il prima possibile. Si chiude così un incidente molto particolare della storia di Nintendo, un episodio a dir poco controverso che però stranamente si è risolto in maniera sin troppo quieta e che forse, se fosse accaduto oggi, avrebbe ricevuto tutto un altro tipo di esposizione mediatica. Poracci, questo era tutto per il video di oggi. Vi aspetto nei commenti per sapere se conoscevate questa storia e cosa ne pensate. Come vi ho detto in apertura, oggi lancio un'importante novità per il canale. Infatti ho deciso di aprire una pagina su Ko-fi, una piattaforma che consente di sostenere i propri creator preferiti tramite l'acquisto simbolico di un caffè virtuale. Se apprezzate il lavoro che porto qui sul canale e volete supportarmi con un piccolo gesto, vi lascio il link in descrizione. Per me ogni contributo è un aiuto gigantesco per continuare la mia attività su YouTube e come al solito anche solo un like, una condivisione o l'iscrizione al mio canale significano tantissimo per il mio lavoro. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Crossing, Michele Ko-fi, ciao!